Ciao a tutti ragazzi come vedete ci sono tre codici e questo perchè ovviamente mi è arrivato un altro TCBM da Gonzalo Saraiva, si chiama il canale ah, qui c'è anche se è troppo presto per Pasqua diciamo perchè oggi è 12 marzo e Pasqua il 31 quindi diciamo vabbè, mancano una quindicina di giorni all'incirca però lo volevo far vedere perchè questo me l'ha portata oggi la mia ragazza all'uscita degli allenamenti siccome gioca a calcio quindi quando sono uscito dagli allenamenti si è presentata con questo mini ovetto dei baci perugina e siccome per me è stata una cosa dolcissima da parte sua mi faceva piacere farlo vedere comunque torniamo a noi allora la busta l'ho già aperta perchè diciamo che è arrivata un po' rotta dalle poste per fortuna il contenuto è integro allora leggiamo il bigliettino ciao poche shiny sono felice di aver fatto questo scambio con te e spero ti piacciono le extra la prime e la shiny che sono le due carte che poi ho scambiato e spero di fare altri scambi con te e sbusta sempre e sbusta sempre carte migliori e caro Gonzalo portami fortuna che magari sbustano qualcosa ancora di meglio come dicevo buy da Gonzalo Gonzalo Saraiva e allora queste sono le extra che ci inserisce nel TCBM e sono un gigalitt rarreverse un ninteles holo un hitmontop holo un mamoswine holo spiritomb holo tangrot holo e gardevoir livello x allora queste sono delle carte veramente stupende questo mi mancava ti ringrazio e e questa gardevoir livello x è veramente stupenda cioè veramente spettacolare io sono riuscito a metterti le holo extra di confini varcati che mi avevi chiesto ovviamente mentre sto registrando il TCBM ho già provveduto a spedire la raccomandata per quest'utente queste invece sono le carte che abbiamo che mi ha scambiato le metto in queste foderine e sono mania zone prime e rei quasa shiny che la cercavo tremendamente questa carta perché mi piace tantissimo perfetto io ringrazio davvero tanto Gonzalo Saraiva questo è il canale ovviamente spero di fare altre TCBM con lui perché le carte sono veramente bellissime e vi saluto e ci sentiamo presto per altre aperture ciao ciao